Musica Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti sul mio canale Vabbè togliamo le cuffie che è meglio perché non mi sento E niente ragazze questo è un video tutorial già L'ho capito da soli C'è scritto nel titolo No anche perché sono senza occhiali E io quando sono senza occhiali significa che ho fatto un tutorial Non so quando vedrete questo video Io l'ho fatto per... siamo al 31 dicembre Lo sto facendo per Capodanno Infatti vi mando un grossissimo augurio di un anno pieno di salute E di... e di piccioli Le solite cose, felicità La felicità ce l'abbiamo con i piccioli Le solite cose non mi va di dirle perché per me sono frasi inutili Le cose che mi interessano veramente di più E la salute per la mia famiglia ovviamente per tutti E il... i soldi nel senso il lavoro Di andare avanti E di... diciamo di... di passare una vita serena e tranquilla Niente ragazze questo è un video tutorial Ho fatto questo trucco per Capodanno Non sono brava con i glitter perché ho questa colla di... Colla Che dino ormai per i glitter Questa qua di... di essence Ma non mi vengono bene Non lo so Forse sono io che non ho fatto una base giusta A me piace L'ho fatta io A me piace Le labbra le sto lasciando così perché Volevo mettere dei luci da labbra Volevo mettere qualcosa in più Ma è inutile metterli perché Appena arriverò a casa Perché sto festeggiando a casa dei miei suoceri Di mie suocere Automaticamente inizierò a mangiare Quindi è inutile Diciamo mettere altre cose sulle labbra Invece il Natale l'ho passato con i miei genitori E la mia famiglia I miei sorelle, i miei fratelli eccetera eccetera I miei nipoti Questa volta la passeremo a casa dei miei suoceri Con i miei cognati eccetera eccetera Quindi che dirvi di più Spero che il video vi piaccia Ovviamente guardate il tutorial Tutorial E niente che dirvi di più Come vi dico sempre Se vi è piaciuto il mio video spolliciate Se vi va non ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Auguri Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.